Pescara, immagini della manifestazione corteo non autorizzata dei NOVAX di sabato pomeriggio aderendo ad un'iniziativa nazionale lanciata sui social per protestare contro il Green Pass. Tamtam che ha consentito alle forze dell'ordine di farsi trovare già in strada a presidio con uomini e mezzi, come evidenziato oggi in conferenza stampa dal questore Luigi Liguori. Secondo i dati della questura, a manifestare sono state 800.000 persone, alcune provenienti da fuori regione. Al momento sono scattate otto denunce, come conferma il questore Luigi Liguori. Queste persone non solo sono denunciate penalmente per la violazione, seppur di tipo contravvenzionale, che hanno commesso, ma saranno raggiunte entro la giornata, al massimo entro domani, anche per notificargli anche la violazione delle prescrizioni anti-covid perché non hanno tenuto il distanziamento sociale e non erano muniti e non indossavano le mascherine. Nei prossimi giorni ci saranno altre denunce, magari guardando altri filmati, comunque state ancora indagando? Certamente, la Digo sta indagando, siamo di fatto a 30 ore dall'accadimento, portare un'informativa, dirlo il questore è facile, ma poi collazionarla e fornire le prove al magistrato affinché possa emettere un provvedimento, se ritenuto opportuno, giudiziario, non è semplicissimo. Quindi questi primi otto sono la prima tranche dei soggetti e avremo nei giorni prossimi sicuramente un aggiornamento. Anche in caso di preavviso questa manifestazione sarebbe stata fuori legge? In caso di preavviso questo tipo di manifestazione sarebbe stata vietata perché sono vietati gli assembramenti, sono vietati i cortei e soprattutto sono vietati quelli senza mascherina e poi contro quella che è una normativa attualmente vigente nello Stato italiano, siamo nello Stato di diritto, si osservano le leggi. Il corteo dalla nave di Cascella ha raggiunto Corso Umberto dove Forza Italia stava raccogliendo firme per un referendum. Momenti di tensione quando il banchetto è stato preso a calci da una delle persone poi denunciate. Ancora il questore. È una persona che esercita la professione forense, è stato in questo numero di otto persone, anche se al momento non c'è stata una formale querela da parte dei soggetti politici che stavano legittimamente esercitando il proprio diritto di raccogliere le firme per il referendum.